Welcome, benvenuti al canale The Crypto DJ. Oggi vi presento tre app o tre piattaforme che sono utilissime se non indispensabili per iniziare a investire nel mondo cripto ma soprattutto per tenere traccia dei vostri investimenti anche per informarsi quotidianamente dell'andamento del mercato nel mondo cripto. Iniziamo subito con la prima app che si chiama CoinGecko è una app per dispositivo mobile ma ovviamente c'è anche la versione per desktop come quella che stiamo utilizzando in questo caso. Una volta registrati vi permette di accedere a una serie di funzioni che sono molto utili ma la cosa più utile in assoluto è che CoinGecko è una specie di listino di tutti gli asset che sono disponibili nel mercato cripto, tutti gli asset che sono acquistabili tramite appunto i vari exchange. Fa vedere in alto a destra che i token, i coin disponibili al mercato sono 10.755 come vedete scritto qui e questo per darvi un'idea di quanto ampio è diventato il settore cripto nel 2023. Ecco perché portali applicazioni come CoinGecko sono molto molto utili per fare un po di ordine in mezzo a questo complicato mondo cripto. Oltre a fornirvi la lista e il controvalore in dollari o in euro a seconda della valuta che poi potete scegliere qui in alto a destra da appunto in tempo reale le quotazioni di tutti gli asset che sono nel mercato. Questa è la prima funzione molto utile di CoinGecko ma una volta registrati al portale abbiamo accesso a tutta una serie di altre funzioni che sono utilissime. La prima tra tutte è la sezione portfolio. Vi permette di tenere traccia di tutti i vostri investimenti nel mondo cripto. Vi permette di creare un wallet che viene definito tracker dove inserire tutti i dati delle vostre transazioni nel mondo cripto in maniera tale da tenere traccia poi nel tempo dell'andamento dei vostri investimenti. All'interno dei vostri wallet avete tutta una serie di funzioni potete crearne anche più di uno ovviamente. Potete ordinare i vostri asset per capitalizzazione di mercato. Potete ordinarli tenendo presente il cambio rispettivamente nell'ultima ora, nelle ultime 24 ore, nell'ultima settimana. Tutta una serie di sistemi per mettere in ordine i vostri asset che vi aiutano a tenere traccia dei vostri investimenti. E per puro scopo illustrativo vi faccio vedere come aggiungere una transazione. Supponiamo per esempio che abbiate acquistato oggi un Ethereum. Andiamo a cliccare sull'icona più nella lista dei vostri asset che sono stati precedentemente inseriti tra i vostri preferiti andando a cliccare sull'icona della stellina nella lista degli asset che abbiamo visto precedentemente. Andiamo a cliccare sul più, vi si apre questa finestra che vi dice il costo al momento dell'Ethereum che è di 1987.58 dollari in questo momento. Andate a inserire quanti Ethereum avete deciso di acquistare. Supponiamo che abbiate acquistato un Ethereum e qui alla fine abbiamo la data di acquisto. Ovviamente funziona anche in maniera retroattiva. Se lo acquistate oggi potete inserire la transazione anche nei prossimi giorni proprio perché si può modificare la data. Si possono aggiungere anche delle note e i costi delle fee, i costi delle commissioni. Semplicemente cliccate su submit, andate avanti e vi risulterà poi il saldo aggiornato dei vostri Ethereum e funziona così per tutti gli altri asset. Oltre alla funzione di portfolio un'altra sezione molto importante è quella dedicata alle news. Scorrendo la pagina verso il basso c'è tutta una sezione legata alle notizie, analisi, guide, approfondimenti e moltissime informazioni con aggiornamenti quotidiani su tutto il mondo cripto. Ma le funzioni di CoinGecko non finiscono qui. Avete qui una serie di menu che vi dirigono direttamente per esempio verso gli asset che hanno guadagnato di più quest'oggi. Top gainers and top losers di oggi. Vi divide tutto anche per categorie. Vi mette in evidenza anche l'ecosistema del BNB Smart Chain di Binance. Tutta una serie di informazioni molto utili e ben organizzate. Il tutto in forma assolutamente gratuita. L'altra app che è simile a CoinGecko ma che contiene molti più asset perché si affaccia non solo al mondo degli exchange centralizzati ma anche a quello degli exchange decentralizzati si chiama DexScreener. Questo è un listino molto molto più ampio perché tiene in considerazione moltissimi token, moltissimi asset che sono appunto listati negli exchange decentralizzati. Qui entriamo in un settore anche molto molto rischioso perché appunto tutti gli asset che trovate negli exchange centralizzati come Binance hanno passato una serie di controlli. Sono in qualche modo stati filtrati dagli exchange centralizzati e hanno un certo grado di sicurezza. Quando ci apprestiamo al mondo dei token decentralizzati bisogna prestare moltissima attenzione perché tanti di questi token che vediamo listati qui su DexScreener possono essere degli scam proprio per la loro natura decentralizzata. Ma gli exchange decentralizzati offrono anche delle grandissime opportunità e grazie a DexScreener possiamo aggiornarci all'ultimo secondo su tutti i token disponibili nel mercato degli exchange decentralizzati. Come potete vedere qui sulla barra di sinistra ci sono tutti gli ecosistemi disponibili nel mercato decentralizzato e grazie a questa piattaforma potrete trovare tutte le informazioni che vi servono per ogni token esistente. Anche qui potete appunto metterli in ordine per prezzo, per volume potete anche crearvi una watch list come ho fatto anch'io in questo caso. Se vado a selezionare uno dei token che sto tenendo d'occhio che in questo momento non è listato in nessun exchange centralizzato mi fa vedere la grafica di come si sta comportando questo token che non è presente negli exchange centralizzati. In questo caso nell'esempio specifico questo token si chiama Hermes ed è un ecosistema a sé stante. Se volete acquistare questo token dovete per forza crearvi un wallet decentralizzato e andare all'interno dell'ecosistema di Hermes DAO per acquistare questo token. L'ultima delle tre applicazioni o piattaforme si chiama TradingView. Se volete registrarvi a TradingView in maniera free vi fornisce già dei tools anche in forma gratuita. Se volete approfondire l'utilizzo di TradingView e sfruttare tutte le sue funzionalità vi potete iscrivere. È un servizio a pagamento. Trovate nella descrizione del video il link per registrarsi a questa piattaforma. Qui potete verificare in tempo reale il prezzo dei vari asset dei mercati non solo crypto ma anche delle stocks, del forex, dei futures e dei bond. Quindi è una piattaforma completissima. Posso sicuramente dire che è una delle piattaforme di riferimento ad oggi per il mondo della finanza dove reperire in tempo reale tutti i grafici. Se per esempio vogliamo vedere come sta andando Bitcoin in questo momento ecco io ho già pre-memorizzato la coppia Bitcoin-Dollaro nell'exchange Coinbase. Lo vado a selezionare e mi si apre la grafica in tempo reale con le varie finestre temporali. TradingView vi apre una finestra molto precisa sull'andamento di ogni asset nei singoli mercati, nei singoli exchange. Se per esempio io voglio cercare le quotazioni di Bitcoin con i dollari virtuali all'interno dell'exchange Binance, TradingView vi dice appunto copia Bitcoin-USDT nell'exchange Binance. Avete la vostra grafica che vi dice in tempo reale com'è l'andamento di Bitcoin rispetto ai Tether dentro all'exchange di Binance. È uno strumento potentissimo per chi vuole approfondire poi l'analisi tecnica, ma anche qui non mi voglio dilungare molto altrimenti il video diventa interminabile. Potete utilizzare TradingView per iniziare a tracciare i vostri asset preferiti e a vedere come si comportano nel tempo. Come vedete oggi purtroppo Bitcoin non si comporta benissimo ma da 30.000 è sceso circa del 3% e grazie appunto a questo strumento che si chiama PriceRange che trovate nel menu qui a sinistra di TradingView possiamo misurare in maniera veloce quant'è la percentuale che Bitcoin in questo caso ha perso nelle ultime 24 ore. Altro elemento importantissimo sono gli indicatori. Punto di forza di TradingView che vi apre un intero mondo per analizzare al meglio tutti gli asset che preferite. Ma non mi voglio dilungare troppo altrimenti come detto prima questo video diventa interminabile. Potete usare TradingView per tracciare l'andamento dei vostri investimenti in tempo reale e approfondire la situazione utilizzando i grafici che TradingView vi mette a disposizione in forma gratuita. Ebbene questa era l'ultima delle tre applicazioni che vi volevo presentare. Se avete qualsiasi domanda o dei dubbi o se volete che approfondisca degli argomenti in maniera più precisa fatemelo sapere nella sezione dei commenti. Ovviamente vi lascio il link alle tre piattaforme sotto nella descrizione del video. Vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è stato utile, di attivare la campanella delle notifiche per restare informati sui miei ultimi video e disclaimer molto importante questo video come tutti i video nel canale The Crypto DJ hanno solo scopo informativo. Fate le vostre ricerche prima di investire qualsiasi somma di denaro. La regola base nel mondo degli investimenti crypto è non investire mai più di quello che sei disposto a perdere. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.